Buongiorno a tutti, sono le sei e mezza, io tra un quarto d'ora partirò in Svizzera a lavorare e niente, vi volevo dare gli ultimi aggiornamenti sulla tretinoina. Allora, stasettimana l'ho messa cinque giorni su sette, faccio riposare la faccia sabato e domenica e devo dire che è andata bene, non ho più sprellamenti e ho visto ancora dei miglioramenti nel senso che da questa parte qua io ero molto più marcata di così, vedete? C'è questo pezzo qua che soffre l'influenza della forza di gravità, però prima ero molto più marcato, adesso si è disteso un pelino, speriamo che pian piano se ne vada perché è veramente odioso. da quello che ho capito dipendeva dal fatto che dormissi sempre da questa parte. Adesso ho dato il cambio e dormo da quest'altra, così alla mala parata mi vengono gli stessi solchi che sono simmetrici. E niente, adesso stavo pensando di mantenere i cinque giorni, comunque due giorni a settimana io la mia pelle la voglio far riposare, però fare da lunedì al venerdì ho Santa Polenta con la tretinoina, il sabato usare il dermaroller e poi mettere uno di questi due sieri che vi avevo recensito di Aliexpress dopo il dermaroller. La domenica ho intenzione di usarla come riposo della carcassa. Io sono sempre più contenta, vi giuro, qua ero tutta una macchia del sole, non ne ho più. Continuo a mettere anche la tretinoina nonostante vada al sole, chiaramente non mi dimentico mai della protezione solare, vabbè oggi non c'è problema, qua sta nevicando, sembra incredibile, ma vero siamo a maggio e qua nevica. E niente, direi che va molto bene. La mia palpebra superiore si è leggermente alzata, prima era così, quindi non ci lamentiamo. Dovrei rimettermi a fare ginnastica facciale, ma per dare un'ulteriore tenuta a tutta la pellaccia che sta accadendo, però mi manca più che il tempo la voglia, anche perché in questo momento ho un cantiere aperto, quindi sono un po' disagiata, insomma, anche a livello logistico. E niente, queste erano le ultime novità per quanto riguarda la tretinoina. Stavo calcolando comunque di fare tutta l'estate con 5 giorni a settimana e poi magari con quest'inverno integrerò di nuovo fino ad arrivare a 7 giorni a settimana, però non lo so perché vorrei mantenere anche il dermaroller, non ho potuto da valutare, insomma. Comunque, vi auguro una buona giornata, ciao a tutti! Grazie!